ce lo facciamo andare uscita proviamo a 1.300 si va a 7.20 vediamo un po' a 7.20 questo problema mi sa che devo togliere il retro mi dispiace ma mi sa che di questo basso il retro non si possono fare allora non so se sta vedendo se come sta vedendo quello non lo so forse mi sta laggando allora bisogna un attimino di feedback prima di tutto ok tanto mi devo cos'è a 7.20 ok quindi a 7.20 ok va bene ho bisogno di feedback se me le potete dare un paio non tolente scusami qua cpu va a 36% è già troppo addirittura ti sento bene eccetera ok quindi mi senti bene benissimo si largherà un po' mai va bene ok qua non so cosa dobbiamo fare qua in realtà dovevamo andare però non lo so ok se si lagga ditemi se si lagga sai lo abbiamo dovevamo andare avanti in realtà dovevamo andare dalla pensione pokemon ok ok andiamo avanti no non è andiamo avanti niente perché dovevamo andare di qua ok ma basta noi iniziamo comunque per ora si lagherà sicuro perché siamo al 40% di roba ora non si lagherà perché pokemon difficilmente gira anche su un tostapane gira anche su un tostapane quindi non è su questo gioco dovrei provarlo su un emulatore dopo lo troviamo su quello della play e forse non potremmo ma basta forse non potremmo aprire pagine youtube spero di no cpu al 50% l'ho mai vista ma a 720 la devi streamare cioè non si può streamare a meno di 720 cioè non esiste allora non so cosa noi dobbiamo fare non ho proprio idea di cosa va fatto e se io forse ancora il computer chiaramente si lagherà certo aprendo il computer ok aprendo il pc chiaramente si lagherà e ci vuole un bel po' prima che si si tolga si si faccia è chiaro si lagherà bestia perché la devo mettere alto dove è che devo andare? però è strano che cacchio devo andare? non so da che parte ok ok la zona surf si la sabbia serve da cuscinetto ok ok però qua c'è il non si può lì andare ma non si può andare là che è qua che è qua attenzione lì c'è uno c'è uno che mi sta inseguendo ma che è? oh ehi tu guarda il mio maio e viene lotta vieni dove? in che senso? certo che stremmare in questa maniera surf in questa maniera veramente mi mi infastidisce comunque no vai che surf swamper 800 poli vabbè buono chi è? ah ma devo andare dall'altra parte sembri abile ti tengo in compagnia io che vecchietto simpatico ma chi è questo timothy ariyama che cos'è questo? che tipo è? va nel dubbio bruciapelo colpo fango nel dubbio nel dubbio ci spariamo un po' di roba vita vita al tiro colpo di fango piegato piegato mamma mia distrutto ecco signore cacci soldi vergogna allora super pozione ok ah c'è anche su venelo questo è forte ragazzi questo è forte un m1 cos'è mt1 qui è una tecnica è una tecnica che si può fare una volta centri pugno non è capace nessuno vabbè come si fa andare di là si può andare di là immagino solo che non so come fare eh ci vorrà mi sa una cascata bacca org ci vorrebbe che mi andate a vedere cosa cosa ci vuole tipo per salire a tempesta di sabbia credo credo che sia una tempesta di sabbia quella o comunque per salire la sabbia perché quello è importante risalire lì sopra però non so come fare no ho sbagliato wingul no ce l'ho già non so come si fa a cercare ci sei mica se puoi cercare non so neanche io cosa devi cercare perché poi alla fine risalire risalire la sabbia non so come si fa l'ho proprio l'ho proprio lì non so proprio cosa devo fare adesso perché percorso 104 eh vabbè ci siamo se cretina abbiamo battute lì si va a Petalopoli ma scusate ma non si può andare più avanti ma si che si può ci vorrebbe qua ragazzi che giocava sempre a Pokemon non so neanche dove andare a dire il vero Petra ma lo battuto già Mitico sono neanche che Pokemon sono ok bravo però non è utile non è utile sapere sta cosa ragazzi suggerimenti su dove devo andare no tipo eh non so neanche io da cercare veramente non so cercare salire per risalire devo usare qualcosa un qualche cosa sicuramente devo far così no boh però spacca roccia scattate meteora però sono già stato ok sono uscito bravo effetto viene battuti tutti cosa c'è qua? cosa fa più sta la net? attenzione ma no io voglio ma lì c'è una sfera ma non si può prendere allora ok adesso può andare di là magari niente bello bello proprio ah qua risalire non si può risalire risalire non si può qua siamo non so neanche dove cazzo siamo ah qua c'è il professore però qua non c'è niente eh non c'è un cazzo c'è niente qua oh sei po' che uomo ma va bene chi è questo più? oh eh sono cioè diciamo di sì però se apro una qualsiasi cosa si lagga per un po' quindi se io apro una pagina youtube si lagga bestia meglio che niente questa roba che può girare nel tostapane può funzionare non posso portare nessun gioco proverò dopo con la ps1 però che non credo che andrà bene così sì però la cpu sta caricando tanto eh io prima non caricavo la memoria del computer avevo una scheda video a parte infatti ora si sta laggando si sta laggando adesso eh un po' si è laggato si lagga si lagga andrei visto purtroppo si lagga no il c'è l'ho ma con l'emulatore però si lagga tutta hai visto anche poco fa si è laggato cioè o la metto in risoluzione più basso non è 720 la metto a 540 ma eh lo so a te però a me sì perché per fare una live mezza laggata potrò al massimo fare le chiacchierate la domenica super repellente purtroppo è così la fiammella 60 la pizza si è super repellente purtroppo ragazzi io ho un compito di merda no non è però spererei sempre che non sono queste le cose di nuovo ancora si è sovraccaricato ah Andre ce la fai cercarmi eh non lo so tipo vedi qua che devo risalire la sabbia tipo non penso di aver capito come si fa non so neanche cosa farti cercare risalire però non so cosa quindi risalire ci vorrebbe che le cascate di sabbia risalire cascate di sabbia perché non è il pokemon zaffiro sempre non so ne cosa farti cercare a dire il vero perché boh ignoro sta cosa se se cascate di sabbia non ha senso però prova e ogni tanto si lagga ragazzi ma pochi secondi però non è così ragazzi ma che cazzo un computer veramente inutile poi non è colpa del computer perché poi alla fine quello è io non ho voluto farlo boh penso penso di ma a me basta solo sapere se esiste un qualcosa che mi dia posso risalire le cascate non capisco perché ci vuole ci vuole un qualcosa ma non riesco a non riesco neanche andare avanti mi sa perché senza quello mi sa che non ce la posso fare non ho proprio idea di come andare avanti le ho già superate le casse però si c'è anche lì l'andre c'è anche là su cascate meteora c'è anche là si si c'è anche su cascate meteora ci sono tranquillamente là eh basta tu hai di coglione delle cascate meteora si c'è un qualcosa si ci sono delle cascate di sabbia non saperebbe dentro un altro aspetta vediamo sono mappa e si è tutta oen è tutta la regione percorso 119 ma è tutta la regione di oen comunque è tutto oen eh no ma non si può lagarsi ogni volta si laga troppo mica che palle di live eccolo qua ecco vedi qua tipo non posso andare di qua e ci vorremmo qualcosa per risalire ma io non percorso 111 119 ora però non so vedi che qua in teoria si può andare a quella parte solo che non capisco eh vaffan ma cos'è ma ancora ma ce l'ho già io sto via ma non interessa piove sto cazzo cazzo è piovo cos'è se non stai allerta rischi di avere brutta sorpresa mazza infatti ho trovato gli scorpioni ora non esco più a camminare vicino alla base di allestamento militare aspetta ah gli scorpioni sono duri m43 cosa c'è dentro no non ho incontrato nessuno m43 che tecnica no qual è la base militare mi ricordo anche più ah no non posso sottrarmi ok vai surf base militare non me la ricordo neanche una base o quattro volte è più di torrette mia lì è dura una base segreta base segreta boh si sulla caravana scomparsa boh non me la ricordo però vabbè nel caso se la fai dopo arrivo magari bell'antonio è quello qua nostro amico grande bell'antonio forza segreta contro quella roba lì via bell'antonio vince m43 non ce l'ho ma cos'è forza segreta mica velenelloi se è forza segreta ce l'ho ce l'ho già cofing ebbè veleno cosa e vai per ora ma non ho proprio idea attenzione attenzione io ci faccio una bella leccata tiè vai bella leccata è paralizzato non può attaccare continua a piovere ancora ho scoperto che qui a uccidere il carovano siete stati voi eh sì perché hai anche le scelte devi stare attento sì è vero perché alcuni personaggi non non approvano quello che fai vabbè sti gran cavo gli dovrei però via ho uccido il sindaco il sindaco meglio non l'ho uccido parla di scaritte che là boh no non sono sicuro cioè volevo capire cosa dovevo fare come uccide il sindaco il portiere come non si può allora noi siamo qua adesso voglio provare io di qua mi sono incastato attenzione a casaccio sono arrivato qua vai infatti non è una missione sì ma non si può fare mi sa ah infatti a caso l'hai fatto sì pokemon zaffiro no il bel antonio ma che il bel antonio perché non potevo ah ma potevi dircelo come no mi sembra che io ce l'avevo detto io o comunque non li avevo uccisi smeraldo no zaffiro smeraldo è un altro porteremo anche quello ah vedi ah ma aspetta vedi che di qua si può passare quindi non c'entra niente a risalire devo trovare le scale la scaletta è forse questa sai istituto meteo ma come ho fatto ad arrivare qui ah ma allora boh ragazzi per fortuna ho trovato il suo ragno ragno più avanti cosa devo fare qua mentre dove vengo sono andati tutti via che è questo attenzione che ci fai qua non è un posto per bambini eh non è un posto per bambini io ci vado lo stesso ci vado lo stesso recluta ti migliori ti sto insultando no vabbè basta mi sa che no e non lo sapevo non ci ho mai giocata questo eh oh ci posso fare ragazzi se un giorno porto chi vuole essere milionario chi è che partecipa a sta cosa però però non so se regge il mio computer perché qua non regge niente qua il capo è interessato alla ricerca quando sta qui per questo ci ha mandato tu stanni fuori faccine attenzione chi è questo recluta non ha nome recluta si chiama zubat attenzione zubat sono di veri io non sono sono di veri surf vai lo surfiamo mamma che bestia ragazzi si lo cambiamo e ci mettiamo proviamo billy dai che billy ha bisogno stanni fuori ma figurati stanni fuori una ceppa un bellino ferro artigli non so se sono fatto una buona scelta al massimo lo cambio attenzione che qua no qua cambiamo vai si è inondato lo schermo stiamo affogando si a posto affoghiamo tutti segugio attenzione mi fa segugio e non dato lo schermo scintilla proviamo scintilla boato ma no boato sembra una porcheria bullo e attacco di si a bella sale che però è confuso è stato confuso figure no maledetto se porti milanici su po' di cultura non fa mai male si va bene lo porterò allora se regge il computer si lanciamo segnale di emergenza agli otobi perché agli otobi così salutiamo agli otobi anche se arrivò al massimo 50 euro e qua ragazzi ci vuole ci vuole il bel Antonio qua eh sì bel Antonio è quello qua nostro amico ma vi toglierti oh bravo bel Antonio 50 euro no dai arriviamo tutti insieme a milione il bel Antonio il 32 va bene abbiamo battuto la recluta 540 mila euro ma chi è i otobi i otobi lui c'è dal 2007 credo il 2006 uno dei più più grossi youtuber qua in italia recensiva i film marci i film bruttissimi attenzione che ce n'è un'altra oera no io tori con la y di yogurt parte la sfida di recluta recluta no eh ah ok no io lo conosco perché dal 2006 che sono su youtube so chi è colpo di fango vai mamma scassato vai olé dovrebbe andare a livello a livello 41 appunto livello 41 per e ovviamente sarà ok no perché un pokemon di fuoco ok carvana carvania bu vai pistola d'acqua mamma viso truce la velocità cala a picco addirittura basta viso truce te dal 2006 si come utente si come carico video no da 3 anni che carico video io in realtà come utente dal 2006 si è stato si si da una piccola peste ma che vuole questo somaro allora buttiamo un po' di super pozioni e le buttiamo a valanga alla grande ok io come utente si vai ok vediamo chi è questo prima prima di del 2006 lo so recluta attenzione ancora una volta vai colpo di fango un colpo un colpo solo basta avanza zubat si vai mettiamo questo che è un po' come elettrico gli spariamo un po' di roba sto qua vai vai elettrico scintilla mamma mia con colpo solo abbiamo buttato giù grande 300 punti si lo cambiamo perché è un pokemon di fuoco noi abbiamo uno d'acqua ci serve vai surf non è molto efficace cavolo l'ha buttato via ok ti migliora ma dopo grazie mille per lasciarlo acceso Anna grazie sei inconsciente o sono incompetente così insulti a random senza motivo mi sa che se entrambe le cose vabbè vabbè la tua innocenza mi indispone ora ti faccio vedere io vabbè a posto Ada si chiama ok ok questa ha pokemon di fuoco però non è d'acqua sto a fare vai pistola d'acqua dovrei avere etele per ricaricare la roba che palla sto vindo che palla è pistola d'acqua fuoco energia infatti noi ora gli buttiamo un po' ancora pistola d'acqua la buttiamo giù vai vai esausto 500 volt no penso che sia sempre di fuoco penso ma che è la prepotenza riduce l'attacco di eh figuro bullo fallisce colpo di fango ok vediamo pistola d'acqua oh tanto gioco grande 700 punti abbiamo avuto la sua Ada Ada la tua forza mi indispone anche la tua c'è il colto di sorpresa me lo batte ritirata grazie se te siamo salve cos'è no dai ma basta sta storia che non c'ho niente basta adesso cominciamo a togliere un po' di roba ma basta ma cacciamolo via via oh certo superguardia etere massimo usa lo usiamo su surf oh vediamo un po' la citano come ah no no per i pokemon no ma che cazzo ma dai devo tornare indietro ma dai non è possibile ah no meno male decidi claudio ok sistema di memoria ok deposito un attimino lo depositiamo cinque secondi ok nel box 2 meno male che c'era qua il pc se no dobbiamo andare in città se no cosa ci daranno mai questi vediamo ci danno un pokemon però magari cast form che è che è un cast form allora cambia aspetto in base a ma stiamo scherzando muta col tempo che fa può venire pioggia danza gioia in sole grandine mossa e lotta sto a fare dimmi ecco qua dimmi tutto sono appena arrivato da youtube ok e che è successo su youtube non succede mai niente su youtube le portiamo sto codo perché sono morto ah ci è andato fallout of force nice spider sono morto ah i ragni sono delle rompiture di balle effettivamente ragni non mi ricordavo c'era i ragni perché cosa hai visto dov'è ah vedi cosa è successo chi è vera dov'è stavo cercando no dai porca miseria ma cosa vuole sta sta deficiente qua vera mi sa che disinstallo il gioco ah 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 addirittura ma come disinstallo il gioco no io l'ho affrontati come i scorpioni sono più difficili perché sono duri pensa che io ci andavo col macete a picchiarli io mi picchiavo col macete ma ci si andavo col macete li pestavo così li massacravo così a colpi proprio di pugni di macete chi se ne frega li ammazzavo tranquillo mai avuto cioè tranquillo no ambulanza covid ma ambulanze qua arrivano sì ho capito che 41 non ha senso ho sbagliato oi ah però surf cavolo idropulsar non mi fai niente non mi fai niente attacco surf grande ce la buttiamo lì a casa a casa vera via a casina oh livello 42 una bestia 1800 euro vai vedo che non ci vado in tempo quanti vado così cassina ecco ti un regalo m2 è volo sì che bello avevo volo ma che figo sì sì vabbè alba nova vera spero che ti togli dalle balle zaino bene bene volo interessante volo è molto interessante questo ci può essere molto utile ovviamente è il bell'antone comodini amici o nemici boh amici che ne so mica ci dormo sopra attacco rapido forse attacco d'ala all'acciaio facciamo vai attacco d'ala volo volo mi può essere molto utile che è qua per cosa c'è forestopoli chi è un albero ah un tipo vecchietto per nascondere l'albero uso la foresta il sal contratti di un mobile locale amico amico ideo ma chi è questa coffing vabbè scassiamo di botte sto qua vai spacchiamolo vai se ti hacker ascoli il canale di più cosa fai eh sono cavoli sono cavoli sono veramente cavoli speriamo di no speriamo di no ideo attenzione oila un coffing volo un muro di fumo continua a piovere vabbè se frega uso a volo mamma volo è veramente tosto è volo perché un mio amico te lo sta hackerando bravo bravo così bravo saliamo fuori l'ip non ti preoccupare minchia la tua superiorità scherzo ma sì lo so ma c'è di gente che fa sti lavori qua non mi stupirebbe e non a me bisognerebbe hackerarlo a una persona che dico io che mi sta abbastanza sulle balle bacca cascania cura l'amelenamento quello può essere utile siamo a forestopoli ce l'abbiamo fatta ma come abbiamo fatto non so neanche io come abbiamo fatto se è un centro pokemon va bene va bene abbiamo recuperato i pokemon ma io sbossi non è che piove domani dicono che è brutto tempo domani mattia ci facciamo tre live la mattina biond perché non l'ho portato altro giorno poi pomeriggio non lo so e poi non lo so salve mega ball chiaramente ok 39.000 mamma aveva anche i soldi ultra ball le prendiamo 6 5 5 5 ultra ball poi super bozioni in abbondanza super repellenti questa facciamo la scorta 10 10 super repellenti mamma poi un po' di super pozioni che male non fanno mai ovviamente allora forest opel deve essere una città come se vuole un cavolo eh gaming nicole pokemon con le otterie ci vuole un pokemon di fuoco ci vuole un pokemon fuoco e io ce l'ho per fortuna ce l'ho ce l'ho per fortuna abbiamo fiammella chi è sta gente voglio pikaci ne hai uno mi aspetta aspetta non ce l'ho pikaci ma io no pikaci perché cosa volete a cattoni ma fa anche rumore rumore del legno zestra allora ci fa il gioco della monetina destra bravo destra bravo secondo me sinistra oh una m10 cos'è m10 intro forza bene vediamoci stato schifo dai piedi vediamo un po' fiammella ah l'uccito c'è ancora che schifo posto idro forza ok abbiamo parato una mossa meno ti metto una cosa rocco aia si chiama pokédex stato sperico questi dove vivono però potevo andare all'altra parte si potevo andare di là no che prima stavo andando di là quindi potevo andare di là e invece ok basta fare così allora ok quindi di là posso andarci lo so boh è strana sta città è stranissima compra cosa compro oh mamma no non compro tavoli un negozio di tavoli giustamente nel bosco l'acqua più è crescogliate la pressa pokemon 120 120 c'è una cosa che non va c'è per questo 120 chi è perché porto meno questo ombrello vediamo se ce la fai a vincere cioè io devo vincere con l'ombrello mi sembra proprio un pokemon da non mettere vai flagello scintilla ti è scintilla ok se ce la facciamo lo facciamo arrivare a un buon livello livello 18 no è un pokemon d'acqua quindi va bene lui scintilla analizzato ancora scintilla vai mamma 800 livello 25 seguccio vediamo un po' c'è la tua fu il mio sguardo seguccio non so cosa sia seguccio sarà tipo boato con ombrello si può respingere un po' grazie forse ok vabbè ci interessa poco vuole andare dalla palestra se c'è non si può andare perché strano se possa andare strano si può andare divisibile e blocca il cammino qualcosa in visibile ehi ciao quanto tempo ma che cosa mi devi far vedere una cosa rocco ho paura cos'è attenzione mi picchia ma cos'è che cleon fiammella è livello impari proprio tipo fuoco ah si mi ricordo di questo mi ricordo per battere devo continuare a cambiare è poco pistola d'acqua attenzione che qua forse lo prendo basta ciao peccato lo volevo prendere vabbè non è importanza non è importanza ok ma ha dato una cosa per me bello ok ma ha dato una cosa che può essere veramente ok facciamo un po' di esperienza e fai i tuoi poi vieni normale robert ricoltore diciamo essere forti qua forse segreta oh bello Antonio ha vinto uno no dai basta vabbè vediamo oh allora sei clà oh ancora si rompi i coglioni madonna non è possibile sta gente teoreporta magneto ok vai forza forza segreta sonic bone pestone mamma sono tutti scarsi ma orca mese vai facciamolo volare in alto surf mamma mia si è presa surf pestone vabbè super suono fallito ok uno e due 2000 bellezza c'è 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 va bene concediamo un'altra intervista abbastanza avvelenanti avvelenanti ma che che intervista è un commento perfetto accidente grande però potrei iniziare a prestare di prendere qualcosa cosa sto a fare uno sur uno sur kit san antonio vai ecco l'aere non so cosa sto a fare qua ma va bene mi fido però vai megavall due vai preso un sur skid non so cosa sia però pokemon sfiora a posse in caso pericolo se c'è un fluido denso e zuccheroso lo chiamiamo chanel vediamo un po' ah un odysse cavolo sto qua ci voleva vabbè ci voleva l'altro paralizzante vediamo se prendiamo anche odysse no lo uccide ma lo volevo uccidere si il demoscopio ah è tipo quello va bene allora è quello lì è quello si il camaleonte un kecleon livello 30 mamma questo si va bene finta volo ok volante vai di tipo normale ok quindi praticamente non è in base al tipo ma all'attacco no vediamo se lo prendiamo ma esce ora 2 l'abbiamo preso mi mancava varia con l'azione del proprio corpo con l'ambiente circostante attacco bello bello jack ah un altro odish attenzione un odish vai sono tutti malmessi mi è poco ma che è tutti malmessi billy vai billy dovrei avere qualcosa forse tra le bacche no sì c'è la bacca castagna basta sonnifero ma che che palle ho è per lì in proporzione in paralisi no mi sembra strano non c'è niente diciamo un po' di ok acido ah non è effetto subire part antiparali sì giudizioni x vai billy dorme eccolo là non è effetto non è effetto nulla sei già svegliato sei arti paralizzante balanima antiparali paralizzante ce l'ho antiparali beh basta ma c'è ma allora mi pia in giro mi pia in giro ferroartiglie acido ancora botte in testa botte in testa tentenna un altro botte in testa ah ci godo che ha fallito e si impara sto zozzone usa la megaball uno due ho vinto mi dispiace ma è così ok odis no odis non lo sai andiamo al centro medico che qua siamo completamente mal messi la palestra ce ne vediamo dopo devo fare dei cambi ragazzi ma dei cambi non indifferenti quindi tutto il mio è un pokemon questo è il più scarso è diventato mamma mia mi dispiace ma cavolo ma è forte lo so già però evita il capo in una mossa ma mi dispiace però mi ma vuol dire a livello 30 30 effettivamente è un buon colpo però vuol dire se ci fosse un chavisa o un charme da qualche parte e dai muoviti ah vabbè che si fotteva tra di qua qualcosa di verde ah vabbè ancora si spaventa e fugge via va bene fuggi via non rompermi le balle dimostrerò elegante si tiene poco come un uccello bravo complimenti grazie Geronimo cos'è duro ah non duro 30 troppo scarso troppo scarso troppo scarso andiamo bene certo che se cominciamo così no con lui non lo fa il furbo no mi dispiace ma non funziona così eh no non è effetto guarda ciao proprio surf rieccomi ho fatto schifo ho preso una pizza che mi vergogna di ma ce la devi dire a dire no mica a me lo devi dire è imbattibile addirittura se la devi dire a lei no attenzione stracchino rossa piccolo da te oh mamma mamma mia ragazzi che degrado valeria picnico attenzione vai bell'antone cosa fa nebbia attenzione sto gran cavolo nemico usa canto mi dispiace il tuo canto te lo puoi pure tenere salvaguardia un velo ricopre il program ma nemico vai canto non serve no bell'antone è lì è vigile raggi rischio il prossimo anno se saremo vivi eccolo appunto se saremo vivi sicuramente fiammella magnitudo si cancelliamo fare posta a magnitudo via sto schifo di azione tanto non lo uso mai magnitudo è interessante potrebbe essere una buona mozza eh beh valeria picnico mi hai battuto non che ci volesse granché però allora io voglio dare un po' a botta di superposioni superposioni 18 superposioni cavolo vuoi che l'unico vero canto è jiggle ma veramente ma jiggle pass ma dov'è jiggle pass io voglio jiggle pass ma che è ma mi sta bevendo in giro ahhh è una tattica guardate no beh ma si va qua ahhh non mi dire che c'è da andare ma che rottura di palle no dai ah ok allora come si fa qua per passare come faccio a passare ahhh ahhh vabbè basta basta fatto grazie evitiamo sto babbeo è il fissetto spettatore eh ogni tanto insomma si cara si cara cara no si si cara lo metto dipende ahhh guarda come lievito gli altri si si no però aspetta ehhh pe 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 eh no ma perchè ste cose non me ne fate ste cose dai uno si è andato guarda ma perché cazzo non posso farlo non è così come si fa qua allora ma ma come cazzo si fa tanto non posso vedi vedi che non si può fare ho poche sì ma non c'ho testa vorrei passare perché ho poche risorse ecco perché non c'ho ragazzi qualcuno sa come come fare sta cosa come passare eh rompitore di coglioni magnitudo vedi un po' nebbia sai che ho fatto una cavolata vabbè magnitudo eh ehi magnitudo di forza 10 no non ha effetto è vero sono dimenticato va bene e allora qua poco male andiamo non devi toccare quello allora quello dopo lo facciamo ho sbagliato non è questo lo metto no aspetta no è giusto quello è un pokemon d'acqua io ci sbatto una scintilla scintilla e basta tieni vattene via oh si mettiamo i più scarsi dai non devi toccare quello dell'ultimo passaggio allora quello lo facciamo botto in testa quello là se vuole mi fa fuori no non mi ha fatto niente attenzione non mi ha fatto farmi niente no attacco d'ala questo è già un po' più più brutto eh bravissimo ti sei fatto valere ora vattene e lascia fare ai professionisti tipo velenello rimonta veleno cosa no vai vai avvelenalo e ora ovviamente colpo decisivo doppio team attenzione spaccaroccia no ma non puoi fallire schifo umano e fallisce minchia ma che palle ma non puoi fallire dai muoviti e fallisce va bene ma smetti di fallire maledetto vabbè fa tutto lui allora oh vent'anni dopo bravo ne mettiamo billy penifer ah so chi è questo adesso lo spacchiamo subito bene andiamo bene vai attacco forte questo vai e stai giù oh un bel attacco di quelli cattivi nebbia non è più confuso ah mi dispiace ah buffone ti è a livello 17 billy attenzione ferro scudo no non è più confuso allora come avevi detto non devi toccare quello dell'ultimo passaggio cioè questo non lo devo toccare ma vedi che non non posso passare però come faccio a passare però porca zozza ah l'ho fatto ok grande l'ho fatto l'ho fatto grazie ok 1 2 2 2 2 4 3 4 4 4 5 5 6 6 6 Alice Oh, attenzione Il gioco è, hai Platina? Comprarci, mancherebbe ancora che noi so, ste cavolate Ah, mica, veramente, il Magi Eh, ma Non sottovalutare un gioco Potrebbe... Attenzione, Alice Ma chi è? Oh, quattro Pokémon Aia Fiammella ci va Idroforza Ah, ero assalto Questa è un attacco strano Eh, troppo scarsi me Ok, giochiamo pesante Surf Sembra stoccarsi il doppio team No, ma non puoi fallire ogni volta Maledetto Non devi fallire Oh, ma perché deve fallire ogni sant'aula? Perché sto strato fa il doppio team Eh, lo sapevo, certo Figurati Aero assalto Oh Non credo... Ma perché deve fallire ogni volta? Ma per quale motivo fallisce? Aero assalto Boh Vediamo un po' di superbozioni ma Non si sa mai Dannato Sapevo che faceva Ste stronzate qua? Ste stronzate qua Porca miseria Anzi Forte sta qua Eh, figura Dai, basta fallire Ma io lo so io Che schifo Mi sta dando fastidio sto qua Basta Vai giù, basta Basta Tu aero Assalto Ma rotto Via Rimonta No 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 Ma che è successo? Ma cosa ha fatto una... Pazzesco Pazzesco, ragazzi Con parole Madonna Sto qua Ma vaffanculo Ma non è possibile Si è fuori controllo, eh Ma ci arriveremo anche qua Non preoccupare Non ti preoccupare Che arriviamo anche qua Mamma mia Lascia in vita Anche lui Aero assalto Anche lui fa Surf No No dai Ciao Eri Ciao Porca miseria Se perdo Mi incavolo veramente Perché non è possibile Sta roba Protezione No Ma porca Di quella puttana Ma com'è possibile Vai Ma protezione da che? È infame Guarda Guarda che schifo Ma dai Non si possono proteggere così A babbo Oh Vai giù Bravo Esco Non ci vedo La nostra Non scherziamo Eh lo so Wow Il terrore Ce l'ho sempre Guarda Comincio a avere Veramente Abbastanza La nostra paura Cos'è sto a fare No Questo non va giù Mica Sto al mio livello Non ci faccio Non ci faccio un cazzo Ma l'acciaio Forza segreta Non ci faccio niente Paralizzato Ma porca Dicola Quella attiva Pokémon Eh ogni tanto Si lagga Ma più o meno Si lagga Si lagga un po' Si lagga Perché non riesco A cambiare Io ho il Ho il codo Come si chiama Ho la scheda video AMD Però non capisco Perché deve rompermi Le scatole A non trovarlo Bell'Antonio Esatto No Ma stiamo facendo Una fatica bestiale Stiamo provando Guarda Stiamo provando Vediamo Attenzione Surf Va giù È a livello 43 Belva umana Sarà Altaria No Cos'è Altaria Che tipo è Cos'è sto a fare qua Colpo di fango No Non è effetto Perché Dragon Dance Cos'è sto codo qua Mi fa un colpo Mi stecca Surf No Non ci faccio niente Perché Come si batte Questa roba Questo qua era A 10 livelli A 10 livelli Meno di me Faccio una fatica Bestiale Terremoto Ciao No Ma è duro Ma è duro Sto qua La prima è più Più nera Per l'Italia Per l'Italia È sempre nera No Vabbè Oh È andato giù Sapevo Mamma mia Che dura 3.000 È andata giù Ma Che fatica Ragazzi Ma è andato Qua C'è da preoccuparsi Io onestamente Cominciò La mente A preoccuparmi Davvero Adesso È un omaggio Un M40 Aereo assalto Ok Lo diamo Al nostro Ben Antonio Vai Cosa È capace Anche lui Eh sì Che non Anch'io Davvero Eh Ma Attacco rapido No Boh Non lo so Lui no Allora No Questo no No Lo diamo All'altro Stavolta Sì Perché Non si riesce A A fare Taglio Fondo Sverla Questo Togliamo Abbastanza Codo Ander Matando Questa volta Si perché Non mi piace Sta cosa Sta prendendo Una brutta Pica Per colpa Di quei cretini Che se ne vanno Spar Sì Sì Anche a me Dicevo Figurati Che banda Ragazza Ok Io Ora proviamo Un attimino Quello della ps1 Voglio vedere Se si laga Anche in quel caso Ok Allora Andiamo un attimo A Prendere Quindi Inizia già Ragazzi Vabbè Vabbè Intanto Mi non succede Sì Anche a me Anche a me Ovviamente Metto un attimo Il 7 Così Ok Vediamo un po Come va Lo sto soltanto Testando così Sì Ma intanto Vedrai che tanto La gente Non lo capisce Ma che è Paperia Archimede Vediamo cos'è Vediamo cos'è So cos'è Ma vediamo È una prova Sto solo testando così Perché l'altra volta Mi hanno chiesto Di Metto Io Lo sono scaricato Ma non è adesso Che si Laga un po Laga Andre Sì Laga tanto Ma che è Ma che è Eccolo Mi fa incavolare Perché Non riesco a A materializzare La cosa Non riesco a Usare L'emulatore E la PSU Ci riuscivo Capisco perché Che palla Vediamo se invece Mettendo la musica No Non andava bene Non andava bene Si stava Stando tutto Ah che palla Ragazzi Devo buttarlo Su computer Poi lo caccio via Devo comprare Un altro Appena posso Appena ho le possibilità Devo Devo sparare Un bel computer Da 1000 euro Oltre 1000 euro Qua No Il problema Che si lagga Ogni due secondi Era un laggare Continuo Non andava bene Io prima Potevo mettereci Un'altra scheda Grafica Potevo scegliere Se la scheda Grafica mia O la scheda Grafica del computer Adesso Non me lo fa Più scegliere Non capisco perché I programmi Non li so usare Figura Non mi ci metto Neanche A guardare Una pagina Di Google Sto solo Facendo dei test Stavo già Facevo dei test A vedere se funziona Tutto Non funziona niente Funziona solo Pokémon Vabbè Metto una cosa Così solo Si lagga ancora Vedete c'è codice In sovraccarico E consigliere Abbassare Abbassare Le impostazioni Video Utilizzare Un prezzo Di codifica Più veloce Ce l'avevo Ma non Non me lo da più Più veloce Di quello Niente E' un continuo laggare Che scazzo Ragazzi Che scazzo Non posso mettere Né pagine Di musica Eh si vedi Aprendo una pagina Deve guardare Cosa succede Aprendo una pagina Google Qualsiasi Aprendo una pagina Google Qualsiasi Il risultato Che si lagga Tutto Non so perché OBS Non so perché Deve dare i numeri Così Avevo Un'altra scheda grafica Che non mi fa mettere Non so che cosa Vado Devo cacciarlo via Sto computer Mi stanno veramente Facendo un bestialino Lo devo chiudere Così Buttarlo in un fiume E comprare un altro Questo è Proprio uno schifo Cioè Non si possono Far live Così Infatti Mi sa che Il retro E la domenica mattina Ce la giochiamo Non so In qualche modo Ci devo fare Ma Cioè Non lo so E ora Perché non c'è niente Aperto Non c'ho Né un emulatore Non c'è niente Aperto Non c'è musica Non c'è niente Non c'è musica Non c'è niente Che schifo La domenica mattina Ammettevo Non c'è niente A rovinare Oggi Sì Dove Eh sì Ma è strano Faccio sto lavoro qua Ho aggiornato roba Mamma mia Che tristezza Ora ho chiesto Una mano A un gruppo di telegram Sono un cazzo Cioè Di 150 persone Uno Ma Neanche uno Ma risposto Ho chiesto Un altro gruppo Su 30 persone Uno Ma risposto Vabbè Come mi dicono Devo anche aiutare Youtuber E Non lo so In qualche modo Faremo Io e altri programmi Non li so usare Qualche modo Un po' tornare Pokémon Ma tanto Volevo già staccare Perché sono un po' Stanco Oggi è stata una giornata Molto dura Niente Dai ragazzi Staccherò In qualche modo Ora mi metto A cercare Di trovare Un programma Decente Che mi dia Una cosa Per Streamare Altrimenti Devo solo Streamare Dalla play E questo Parecchio Parecchio disturbo Eh vabbè Dai ragazzi Ci siamo domani Non so neanche Che programma C'è domani Ah no C'è Beyond La mattina Invece che Cutquare Sport beyond Poi Salteremo Retrofondo Tornare